Rosalba e Sespo si sono lasciati. Purtroppo, volevamo annunciarvi che io e Sespo non siamo più fidanzati. È stato fatto un annuncio shock. Sono stati tre anni e mezzo bellissimi, pieni di emozioni e ci siamo amati tanto. Voi due eravate destinati ad Amalfi. Ed eccomi qua ragazzi, tutto pettinato, tutto laccato, anzi ho messo la cera perché sì, sono stato dal parrucchiere. E sì, ho fatto le sopracciglia perché come potete vedere qui, cioè praticamente ho la pelle distrutta. Questo perché? Perché ho la fortuna di avere una pelle super delicata. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo appuntamento di TG Talk. Il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TG Talk. Rosalba e Sespo si sono lasciati. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre, vi ricordo se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche del video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale. Così di rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TG Talk. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio. Ed ovviamente anche su TG Talk, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo TG Talk, nuove notizie, super super shock che vi devo raccontare. Sì, avete letto molto bene il titolo di questo video, non si tratta di un titolo clickbait, non si tratta assolutamente di una notizia falsa. Proprio perché lo sapete, io parlo quando so, e soprattutto quando sono i protagonisti della storia che racconto, che hanno raccontato in prima persona tutto quello che è successo. Oggi siamo di fronte ad un annuncio inaspettato, ad un annuncio che mai e poi mai ci saremmo aspettati. Perché sì, oggi parliamo a grandissima richiesta di una coppia storica di TG Talk Italia. Parliamo infatti di Rosalba e Sespo, tre anni insieme. Tantissime risate, tantissimi video fatti insieme, tanti ricordi che tutti quanti noi, anche qua sui social, appunto abbiamo con questa coppia. Io ricordo che forse uno dei primissimi TG Talk riguardava proprio Rosalba. Avevamo forse anche parlato di polemiche, di tantissime cose. Quindi se penso che comunque sono già passati due anni da TG Talk e se penso a tutte le cose che sono successe in questi anni, che hanno coinvolto anche Rosalba. Mi ricordo che insomma c'erano state polemiche sulla sua canzone, c'erano state anche delle polemiche sulla sua relazione con Sespo. Si è parlato tante volte anche di una rottura, no? E in realtà oggi capiremo bene tutto quello che è successo. Insomma, tanti ricordi, troppi drammi, eppure si va avanti. Diceva una canzone o un film, non ricordo. Comunque insomma, oggi siamo qui per parlare proprio della fine della storia d'amore tra Rosalba e Sespo. Eh? Cos'è? Cosa? Il nostro racconto diciamo che parte più o meno un anno fa. Questo perché? Perché in realtà si parlava già di una crisi tra Sespo e Rosalba, tempo e tempo fa, penso che fosse sì, più o meno l'inizio del 2021, forse anche nel 2020, quando i due si erano presi, mi pare di ricordare, una pausa, una pausa di riflessione. Poi sono tornati insieme più forti di prima, e insomma, sono stati poi la coppia che abbiamo visto in tutti questi anni. Sono cresciuti insieme, ricordiamolo. Sono ragazzi super giovani e super innamorati, ma ovviamente questo amore è arrivato al capolinea. Prima però di raccontarvi quello che è successo, facciamo un attimo un passo indietro, perché proprio un anno fa, credo fosse gennaio 2021, quindi in realtà quasi un anno e mezzo fa, visto che siamo a maggio e ci sono 30 gradi fuori, e mi sto a squagliare, ovviamente, cosa succede? Succede che ad un certo punto si parlava insistentemente di questa rottura tra Sespo e Rosalba, tant'è infatti che ad un certo punto proprio Sespo, in prima persona, stanco delle fake news, stanco di tutte queste notizie false e voci di corridoio, decide di fare un video su YouTube, nel quale risponde alla domanda più gettonata, ma tu e Rosalba vi siete lasciati? Sono singoli? Insomma, vi siete lasciati? Blah blah blah? E proprio in quel video lui spiegava come non fosse nulla. Vero, un video oltretutto che ha veramente tante e tante visualizzazioni, proprio perché in quel periodo tante persone credevano alla fine di questa relazione, e invece no, in quel video lui racconta comunque di questo amore che va avanti, ma proprio a gonfie vele, e non è che se delle persone non si vedono insieme sui social, allora si sono per forza lasciate. Ricordiamoci ragazzi che la coppia, la vita di coppia, non è che esiste solo e soltanto perché uno pubblica foto, video e quant'altro sui social, oppure solo perché pubblichi foto, video e, che ne so, frasi strappalacrime sui social, allora ami una persona. A volte si ama una persona anche senza dire nulla, senza rendere pubblico nulla, ed è un po' quello che in realtà faccio io, no? Perché anche se uno è fidanzato non è che deve per forza sbandierare ai 420 la qualsiasi cosa che faccia, poi per carità c'è una foto dove ti tieni per mano, va bene, ok, ma finisce lì, almeno questo è quello che penso io, però non giudico ovviamente le persone che lo fanno, ma giudico quelli che invece credono che se non pubblichi foto, video, post e quant'altro, allora ti sei per forza lasciato, sei single, bla bla bla. No ragazzi, non è così, ma andiamo avanti, perché dopo questa, diciamo, fake news, che è stata messa a tacere proprio da Sespo, arriviamo ai giorni nostri. Passa un anno e mezzo, siamo a maggio 2022, tutto bello, tutto molto interessante, ma come un fulmine a ciel sereno arriva questa notizia tremenda. Ero bello sfaparanzato, insomma, sul mio letto a guardare uomini e donne e ad un certo punto ricevo mille, letteralmente mille messaggi su Instagram di persone che mi dicono guarda che è successo, al che io apro, apro queste stories e vedo che di comune accordo, credo, Rosalba e Sespo hanno pubblicato un annuncio ufficiale sui loro social, pubblicano delle stories, credo, scritte insieme o comunque, insomma, di comune accordo e annunciano la rottura della loro relazione. E andiamo a leggere queste stories che hanno pubblicato. Partiamo da quella di Rosalba che scrive Ciao a tutti, purtroppo volevamo annunciarvi che io e Sespo non siamo più fidanzati. Sono stati tre anni e mezzo bellissimi, pieni di emozioni e ci siamo amati tanto. Purtroppo la nostra relazione è finita, ma siamo comunque in ottimi rapporti. Non ci odiamo e continueremo a sostenerci a vicenda sia nel privato che nei nostri obiettivi lavorativi. Vi chiediamo per favore di non fare troppe domande. Possiamo capire che a voi dispiaccia molto, ma preferiamo tenere questo momento privato, come spesso abbiamo fatto, durante tutta la nostra relazione. Ed in effetti, ragazzi, qua voglio fare un inciso. Non ho mai visto, che io abbia ricordi, non ho mai visto Rosalba lanciare frecciatine per quanto riguarda la sua relazione con Sespo, ovviamente. Non ho mai visto Pianti Live. Veramente, non ho mai visto quel tanto acclamato circo sui social, no? Per quanto riguarda la loro relazione, veramente non mi è mai successo di dire Ah, vabbè, hanno pubblicato queste cose, no? Per fare un po' clamore, per hype, eccetera, eccetera. Mai l'ho pensato e mai, soprattutto, mi hanno dato questa sensazione sui social. Comunque, a parte questo annuncio di Rosalba, sentiamo invece cosa ha detto Sespo, perché scrive Ciao a tutti, purtroppo volevamo annunciarvi che io e Rosalba non siamo più fidanzati. Sono stati tre anni e mezzo bellissimi, pieni di emozioni e ci siamo amati tanto. Purtroppo la nostra relazione è finita, ma siamo comunque in ottimi rapporti. Non ci odiamo, continueremo a sostenerci a vicenda, sia nel privato che nei nostri obiettivi lavorativi. Vi chiediamo, per favore, di non fare troppe domande. Possiamo capire che a voi dispiaccia molto, ma preferiamo tenere questo momento privato, come spesso abbiamo fatto durante tutta la nostra relazione. Se zoomiamo bene in questa foto, in questo post, vediamo appunto una foto di Ros e Sespo con un cuore. Quindi, non lo so, io non voglio dire nulla, ma questa carineria che ha fatto anche Sespo di mettere una foto con un cuore, chissà, magari ci fa pensare che lui vorrebbe tornare con lei. Non lo so, ragazzi. Poi queste sono ovviamente cose private, sono solo supposizioni. Non è che perché uno mette sta foto allora lui vuole ritornare insieme. Non lo so, onestamente non lo so. Fatto sta, ragazzi, che questa notizia, come un fulmine a ciel sereno, ve lo ripeto, mi ha lasciato letteralmente sotto shock. E in realtà questa notizia ha lasciato sotto shock tutti quanti noi qua sui social. Cioè il pubblico di TikTok, ragazzi, voi non siete pronti. Chi dice non credo più nell'amore? Penso di aver visto mille video che dicevano proprio questo. No, vabbè, ma Rosalba e Sespo si sono lasciati. Io non credo più nell'amore. Credo che tale tante persone che hanno pubblicato questo genere di video ci sia anche l'ex collegiale Valentina Comelli. Che, aspettate che adesso ve lo prendo, perché mi sa che l'ho anche salvato questo video. Se non mi sbaglio, ecco qua. Che sapore ha la delusione, scrive lei. Chiedi pure alla me quando ha letto che Sespo e Rosalba si fossero lasciati. Cioè, ragazzi, siamo esattamente tutti come Vale Comelli. Nel senso che mai e poi mai mi sarei aspettato che questa coppia scoppiasse letteralmente. Mai mi sarei aspettato questo genere di annuncio ufficiale. Tre anni, ragazzi, di relazione sono veramente tanti, soprattutto a questa età. E li abbiamo visti crescere insieme, abbiamo visto crescere il loro amore insieme a loro. L'abbiamo un po' vissuto, se vogliamo, no? Per quanto si possa vivere un amore sui social. Però lo abbiamo vissuto. E vedere questa coppia storica di TikTok, che comunque si lascia... Cioè, ragazzi, io sono rimasto letteralmente sotto shock. E come vi dicevo, a rimanere sotto shock è stato anche il pubblico qua sui social. Tanti sono stati i commenti, i video, anche su TikTok, che dicevano proprio a gran voce questa cosa. E cioè, io non credo più nell'amore. E questo genere di commenti, questo genere di frasi, sono state anche pubblicate sotto il post che hanno fatto gli amici di Webbo, che ovviamente, primi in assoluto, hanno dato la notizia. Hanno pubblicato questo post. Nei commenti c'erano veramente tante persone che dicevano io non credo più nell'amore. E ad un certo punto, di fronte a queste frasi, diciamo che Rosalba ha deciso di lasciare un messaggio, di lasciare un commento, che dice l'esatto opposto. E cioè, non credete nell'amore, ma che state a di? E adesso vi leggo quello che lei, in prima persona, ha detto. E gli amici di Webbo ovviamente l'hanno anche fissata. Perché dice, Leggo tantissimi, non credo più nell'amore. Ma raga, non è così. E non dovete mai pensare questo. L'amore esiste ed è bellissimo. L'amore che ho provato per Edo è stato bellissimo e rimarrà per sempre nel mio cuore questa storia. Ma purtroppo a volte le cose finiscono. Quindi vi dico, amate. Non abbiate paura dell'amore. Fa tanto male, ma ne è valsa la pena. E diciamo, ragazzi, che mi sento di proprio quotare questa frase, no? Di Rosalba. L'amore è bello. L'amore è quando si vive serenamente. Seppur con litigi, perché ragazzi, poi anche qua, non prendiamoci in giro. Non è che ogni relazione, ogni amore sia limpido, trasparente, che ne so. Cioè, ovviamente, ci sono liti, ci sono momenti no, ci sono momenti felici, momenti tristi. Si litiga, appunto, si discute, ci si confronta, a volte anche in maniera abbastanza accesa. Ma l'amore, con tutto questo contorno, no? Che ci possono essere momenti felici, momenti tristi, litigate, momenti di felicità, non so come dire. L'amore è questo. Che vi piaccia o no, l'amore è fatto anche di inizi, di fini. Non si deve pensare che se una coppia si è lasciata, allora basta, non credo più nell'amore, loro erano bellissimi, ma si sono lasciati, quindi basta. Io non troverò mai nessuno. Capisco che a volte si dica anche in maniera ironica, se vogliamo, no? Vabbè, si sono lasciati loro, ma io, cioè, chi me si piglia, no? Però la verità è che quando incontri l'amore della tua vita, lo sai in cuor tuo che ne vale la pena e che a prescindere da come finirà, se finirà, ne sarà valsa la pena. Quindi è giusto, secondo me, vivere ogni relazione al 100%, al massimo proprio, dare tutto quello che si può, ricevere tutto quello che si può, ma soprattutto vivere le emozioni, perché non c'è cosa più brutta di vivere di rimpianti, cioè di cose che non hai fatto, ma che forse potevi fare. Sempre è meglio vivere di rimorsi. Frequenti una persona, vi fidanzate, poi questa persona ti tradisce? Pazienza, ragazzi. La malaparte la fa quella persona e si deve guardare lei o lui allo specchio e dire ma che persona sono, no? Quindi state attenti, ma soprattutto amate, perché come dice Rosalba, alla fine ne vale sempre e comunque la pena. Se state con una persona che pensate che non ne valga la pena, beh, state sprecando il vostro tempo, eh. Detto questo però adesso, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa notizia davvero inaspettata. Io vi dico che il mio cuore ha fatto crack quando ho letto queste parole davvero inaspettate, davvero un annuncio che mai e poi mai avrei immaginato. Il video comunque può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!